Il segreto di Fatima rivela anche l'avvertimento universale descritto da Luz de Maria? Il segreto di Fatima non parla specificamente di quello che credo sia un asteroide diciamo che lo contiene nella spiegazione generale dei fatti che accadono perché quando gli oceani si sollevano eccetera eccetera ci sarà anche l'impatto di un asteroide che è un segreto o una rivelazione che è stata fatta specificamente ai bergenti di Garabandale. Ovviamente la Vergine apparizione dopo apparizione affronta tematicamente approfondendo determinati argomenti ma non è ogni apparizione la fotocopia dell'altra quindi diciamo nell'arco delle apparizioni principali che la Vergine ha fatto a partire da 1846 a oggi ha spiegato approfondendo aspetti del libro dell'Apocalisse di Giovanni aggiornandoli alla comprensione e allo sviluppo attuale della cultura umana.